Prenderanno il via domani, sabato 4 gennaio, i tanto attesi saldi invernali anche nelle Marche, oltre che nella maggior parte delle regioni italiane. Per i successivi 60 giorni, dunque fino al 1 marzo, si potranno acquistare capi d'abbigliamento, calzature e accessori a prezzi scontati. Un'opportunità che arriva dopo Black Friday e Cyber Monday di fine novembre e dopo lo shopping pre-natalizio, effettuato ormai sia nei negozi tradizionali che online. Per questa ragione le associazioni di categoria prevedono una partenza più in sordina rispetto agli anni scorsi. E i commercianti studiano ormai da tempo nuove formule, tra cui gli inviti personalizzati a partecipare a vendite private ed esclusive. Ogni anno le associazioni invitano i sercenti e consumatori a rispettare le regole per fare acquisti in sicurezza, evitare l'oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici se ci si riferisce solo ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare il prezzo originario e quello scontato dei prodotti in saldo, accettare pagamenti con bancomatte e carte di credito, rendersi disponibili a sostituire la merce acquistata nel periodo dei saldi e infine effettuare le riparazioni se richieste dal cliente. Per i negozianti è opportuno garantire serietà e competenza, per i consumatori invece è d'obbligo un pizzico di attenzione per non incappare in imbrogli. Il consiglio è di non lasciarci ingolossire da ribassi esagerati e controllare sempre i prezzi dei capi desiderati qualche giorno prima dell'avvio dei saldi. Dai consigli sul buon uso dei saldi a quelli sui capi che vale davvero la pena acquistare. Ecco allora una selezione dei must have, riutilizzabili anche nella prossima stagione, che è bene accaparrarsi a prezzo scontato. Si tratta di passepartout, versatili e chic, grandi classici che dovremmo sempre avere a disposizione nel guardaroba. Tra questi per le donne l'intramontabile cappotto color cammello con cintura in vita, la maglia a righe, la camicia in denim, il cardigan di lana per le giornate più rigide, la minigonna di pelle e il dolce vita in cashmere. Anche per gli uomini il consiglio è abdiottare per alcuni evergreen, oltre al maione in cashmere la camicia azzurra, il piumino e i capi in tessuti tecnici, se si praticano sport all'aperto. Per i viaggiatori incalliti poi speazio a valigie, zaini e borsoni. Infine, se un weekend sulla neve è già in agenda, i saldi possono essere un'ottima occasione per rinnovare il guardaroba da sci.